Secondo, vai 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 Quindicesimo della ripresa Lamento topico del mezzo Profi con una serpentina sulla sinistra Mette il pallone in mezzo Dopo un batti e ribatti Sargato Masini Arriva Rosi Che con un fendente Mette la palla in fondo al sacco E fa lui nel mezzo Complimenti a Giacomo Amorevoli Lui è anche Tantissimi complimenti E' uguale E' solo una stracca più giovane E' uguale Complimenti E complimenti Alla Sant'Andrea Veramente è una Prova